Dipendente comunale declassato ricorre al tribunale e vince la causa contro il sindaco che è stato condannato al carcere. I fatti si sono consumati nel 2010 nel palazzo municipale di Torraca. Protagonisti della vicenda giudiziaria l'allora sindaco Daniele Filizzola e il comandante dei vigili urbani dell'epoca Antonio Abbadessa. Quest'ultimo era responsabile anche dell'area di vigilanza, servizi demografici, finanziaria e affari generali del comune incarichi che Filizzola gli revocò tra il disappunto del diretto interessato. Il 4 giugno scorso il tribunale di Lago Negro ha condannato l'ex sindaco per il reato di abuso di potere ad un anno di reclusione, un anno di interdizione dai pubblici uffici e al pagamento delle spese processuali e legali a favore della parte offesa. La pena è stata sospesa. Secondo i giudici la revoca di Abbadessa dall'incarico dirigenziale fu disposta soltanto per ragioni politiche non per che non aveva raggiunto gli obiettivi fissati dall'amministrazione e la legge vuole che solo per quest'ultimo motivo un funzionario può essere rimosso dall'incarico. All'epoca dei fatti il comandante della polizia municipale aveva un diverso pensiero politico rispetto a quello del suo sindaco che venne fuori chiaramente con le elezioni amministrative del 2010 quando Abbadessa si presentò per la carica di primo cittadino. Fino al 2013 capeggiò l'opposizione dalla quale fu cacciato fuori per incompatibilità. Anche in questo caso Abbadessa si rivolse alla giustizia ma la vicenda fu archiviata perché nel frattempo il consiglio fu sciolto. Oggi Filizole e Abbadessa non fanno più parte del consiglio comunale di Torraca e entrambi non si sono candidati alle amministrative del 2014. Abbadessa da un po' di tempo è in servizio per esso la polizia municipale del comune di Sapri.